...posto in tribuna per il presidente Ettore Renato Barzi, lanciata la volata, maglia bianca, cycling, team Friuli. Sì, sono abbastanza veloce, poi la gara si è messa nei migliori dei modi per me con un gruppetto davanti e così ho potuto giocarmi le mie carte che sono abbastanza veloce, ho preso la volata di testa, stavo molto bene e per fortuna nessuno mi ha rimontato. Ma voglio dedicarla a tutta la squadra, ad altri inferiuli, agli allenatori, a tutta la squadra, a questa fantastica squadra. È una mozione grandissima, l'abbiamo vinta con un corridore che se la merita tutta, l'abbiamo vinta in casa di Pinarello e quindi è importantissimo anche per questo ed era una classica che mancava nel palmarès del team. Stiamo crescendo e stiamo riempendo le caselle delle gare importanti. Grazie. 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 Grazie.